Apertura di campagna elettorale col botto per Luca Cipriano e la sua lista mai più. L'obiettivo dichiarato è quello di andare al ballottaggio per poi giocarsi la partita nello scontro diretto. Impresa tutt'altro che facile, anche se il debutto trasmette fiducia a candidati e sostenitori. Cipriano illustra il programma e attacca gli avversari, soprattutto l'ampia coalizione di centrosinistra che sostiene Nello Pizza. Il candidato mostra un video nel quale i leader della coalizione si criticano a vicenda. Per Cipriano la città ha bisogno di voltare pagina. Nella sua squadra anche due ex assessori come Marietta Giordano e Marco Cillo. Noi abbiamo uno slogan che scriviamo chiaramente in città, che ora basta. Noi siamo stanchi di questo approccio alla gestione della città di Avellino. Noi diciamo basta alla clientela, diciamo basta ai meccanismi opachi, ai meccanismi che creano condizionamento, diciamo basta al degrado, la città è sporca e abbandonata, diciamo basta alle strutture chiuse, alle palestre affidate agli amici, agli appalti concessi sempre agli stessi, diciamo basta agli interessi nell'urbanistica, diciamo basta ai trasporti che non funzionano. Noi abbiamo un'altra proposta per Avellino e quindi la nostra parola d'ordine è basta. Dopodiché gli avellinesi sono chiamati a un gesto fondamentale, rivoluzionario. Vi è piaciuta come è stata amministrata la città negli ultimi cinque anni? Non sono io il vostro interlocutore. Cambiate canale, votate il PD e continuate a tenervi degrado e abbandono per i prossimi cinque anni. Volete uno slancio di futuro, di cambiamento, di speranza? Volete portare una nuova classe dirigente al governo della città? Avete la forza e il coraggio di portare quarantenni, cinquantenni, professionisti, facce nuove che non sono passate né da Nusco né da Montefalcione ad essere benedetti a governare Avellino? Allora la nostra lista e il nostro progetto civico ha un senso.